Redditività a consegno positivo e margini di crescita che non sembrano rispondere solo a rose e previsioni per il futuro. La fotografia che emerge dalla quarta fase del progetto di mappatura della filiera condotta sui lanifici e produttori di filati dimostra che il distretto funziona ancora e a dirlo sono i numeri degli imprenditori delle 194 realtà prese in esame dall'indagine promossa dalla Camera di Commercio di Prato con il contributo del progetto Prato della regione toscana. Nonostante la crisi il comparto è quindi ancora in grado di produrre utili e di attrarre gli investimenti del mondo della moda. Quasi la metà delle aziende di maggiori dimensioni di entrambe le tipologie di produttori lavorano a caso per griffe e grandi marchi. Dopo le filature, le tessiture, orditure e lavorazioni che sono fondamentali per la realizzazione dei tessuti nonché la nobilitazione siamo arrivati ad una mappatura precisa e puntuale dei produttori di filati e di tessuto. È emerso un quadro molto positivo, confortante. Non dico che tutto è passato e che tutto è rosa ma sicuramente abbiamo rispetto alle precedenti tipo di mappature dei risultati molto molto più soddisfacenti. Significativo poi il boom della maglieria registrato soprattutto per i filati e incoraggiato dalle tendenze del mercato nel campo del fashion. Questo ha evidenziato che una tendenza di moda può veramente condizionare anche l'attività di un distretto. C'è ancora quindi un brand forte made in Prato che può essere promosso in Italia e all'estero? Secondo me sì. Fra l'altro si sta notando negli ultimi anni, diciamo così, nell'anno passato anche un'inversione di tendenza in cui i grandi marchi, soprattutto di alta fascia, altissima fascia, tornano a produrre qui in Prato perché nelle altre parti del mondo non vengono garantiti certi standard qualitativi. Nonostante appartengano a due sistemi vicini fra loro, le realtà prese in esame si differenziano tuttavia in termini di strategie anticrisi. Se entrambe hanno infatti cercato di attuare una riduzione dei costi, di fronte alla difficile congiuntura economica i produttori di filati sono intervenuti sulla ridefinizione della propria offerta di prodotti, mentre i lanifici sono andati alla ricerca di nuovi canali di vendita. Non è un caso che i lanifici siano maggiormente orientati all'estero, fatturano i due terzi della produzione sui mercati stranieri, diversamente dai produttori di filati, per i quali il mercato interno ricopre un ruolo chiave con circa il 37,6% del fatturato. Forte per le due categorie è poi il legame con il distretto e con i contotersisti. In media il 90% delle lavorazioni viene infatti effettuato nel circuito produttivo pratese, una filiera che vede uno scarso rapporto con le imprese cinesi. L'84% dei produttori di filato e l'81% dei produttori di tessuto dichiarano di non avere alcun rapporto con queste aziende. Il dato che forse fa un po' più riflettere è che anche alla domanda su quali possono essere le prospettive di sviluppo e di collaborazione con queste aziende, le risposte sostanzialmente denotano un fondo di scetticismo. Mantenere il trend positivo e guardare al domani con ottimismo sono gli obiettivi che gli imprenditori debbono perseguire puntando sempre su innovazione e investimenti. Continuare a investire sull'export perché questa è la chiave di vittoria di questo settore sia per i produttori di filato sia per i produttori di tessuto e stiamo vedendo che chi ha investito sui macchinari è la strada del successo. Un altro elemento importante è anche l'aumento del prezzo medio del prodotto che manifatture, filati e lanifici hanno avuto nel corso degli anni. Sarebbe quantomeno auspicabile e di stimolo se certi benefici venissero anche trasmessi ai contoterzisti. Conclusa anche la quarta fase, l'ultima tappa della mappatura della filiera si concentrerà sui tessuti tecnici e le lavorazioni accessorie. Grazie a tutti.